Signora, che ne pensa del risultato elettorale di domenica? Benissimo. Molto bene il risultato, mi è piaciuto molto. Io sono stato disoccupato per parecchio tempo, sono riuscito a trovare lavoro per scommessa. Sempre che Renzi queste riforme ne porti avanti, io gli do fiducia. A me Renzi piace, essendo di destra, piace e piace veramente. E' uno che parla dritto, sa parlare, è una persona che piacevole anche se, e anche nel vedersi e nel guardarsi. Ma io penso che un po' di fiducia ce la vuole. Lui sta provando a fare qualcosa, poi vedremo se ci riesce. Lui bravo. Sì, 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 perché bravo. Non ci credo a tutte queste riforme che stanno dicendo. Prima voglio vedere, poi può darsi voto, però la prossima volta. Siccome a noi ci hanno sempre tartassato la categoria, adesso sono in pensione, allora siccome ci tartassano e poi dicono pure che tanto il Paese è fatto dei pensionati, allora se il Paese è fatto dei pensionati, io da pensionata non vado a votare. Mi è dispiaciuto perché è la prima volta che no, io ho sempre votato. Posso dire esplicitamente che non sostengo l'attuale politica del PD, però penso che l'Italia ne esce compattata, quindi questa è una buona notizia. gradirei delle politiche più fortemente e esplicitamente di sinistra, che non vedo attuate, però mi sembra che nel panorama europeo possiamo essere abbastanza soddisfatti di come l'Italia si sta muovendo. Ha votato per me bene, sì, il brazzo è votato, è benissimo. Ho votato perché mi sono informata per una settimana intera a fare continue ricerche e ho votato quello che pensavo fosse giusto, ma di politica veramente poco o minimo. Si spera in un progetto per il futuro dell'Europa che porta il meglio per l'Italia e per l'Europa intera. Speriamo, i propositi ci sono stati avverati, quindi vediamo un po' come andrà. Bisogna aspettare i fatti, dopo le parole bisogna aspettare i fatti. Adesso ancora tutto in alto mare mi sembra, perché le promesse ce ne stanno tante, però non vorrei che c'esse la fine di Berlusconi che ha promesso tante cose, poi le promesse ne fa tante, bisogna farne le cose. Io l'ho votato Renzi, quindi spero che faccia quello che ha detto, vediamo. 20 anni fa c'era Berlusconi che proponeva il cambio e quindi ha detto non c'era niente sul mercato che potesse offrire, quindi affidiamoci a Berlusconi. Adesso la figura nuova è Renzi, quindi al di là di aver preso 4-5 punti in più che ovviamente li hanno persi altri perché non hanno avuto un'offerta di cambio. Si pensava che di Renzi, che ce l'avesse fatta, ma no in questa maniera, assolutamente, alla grande così. E sinceramente ho visto che della destra era logico che finisse così, anzi, anche troppo. Si pensava un grosso boom di Grillo e Grillo invece è a toppare. E il Malox che si è preso se lo merita tutto. Su Grillo penso che abbia capito che una politica così urlata non va bene, insomma. Qualcuno ha anche delle possibilità di ragionarsi su e quindi diciamo che di fatto ha fatto il gioco di altri. Bisogna fare i fatti, non le parole, secondo me. Credo che questa volta ci fossero state le possibilità di un cambiamento. C'erano altre situazioni, alcune nascenti, altre che magari nelle politiche non ci sono. Secondo me non è stata colta questa possibilità. Votando per un partito che secondo me non rappresenta più quello che vogliono, la sinistra o il centro-sinistra italiano. Grillo si è proposto male rispetto a una fascia di italiano. Cioè l'italiano che è un conservatore, insomma, borghese, una cosa, no? E quindi l'italiano ha ancora una cultura un po', se diciamo, clericale o comunque rispettosa di certe cose qui. Non è che abbia avuto paura chissà di cosa, ha avuto paura perché non offre niente. Però io non ho votato perché ero fuori, sennò può darsi che quindi non... Vedremo un po', insomma. Devo scappare, scusate. È stata una vittoria comunque di un progetto politico, di un leader politico, nella fattispecie Matteo Renzi. Sicuramente il risultato dei 5 Stelle è stato al di sotto le aspettative, forse anche dovuto veramente ai toni della campagna elettorale, a volte anche molto sopra le righe, molto sopra le righe. Fermo restando che per carità ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Il centro-destra è da ricostruire. Speriamo che il governo Renzi, la coalizione del PD in Europa, riesca comunque veramente a dare una voce diversa. In Europa non è cresciuto l'astenzionismo e questo è un fatto positivo, anche se sono cresciuti fra chi ha votato, coloro che hanno votato partiti non molto convinti dell'Europa. E questo è un problema per tutti noi, almeno per quelli che ci credono. Per l'Italia il successo del PD è indubitabile. È un grande successo, una grande scommessa. Io non ho votato PD, ma mi fa piacere e mi auguro che in qualche modo la speranza che c'è in questo voto abbia un buon esito. Io ho votato la lista a Tsipras, abbiamo ottenuto inaspettatamente, negli ultimi giorni non eravamo certi, il quorum. Abbiamo eletto dei parlamentari europei che spero possano essere utili al lavoro del Parlamento europeo. Poi sulle conseguenze rispetto al governo italiano non avrei fretta di dare giudizi definitivi. Diceva sempre Fraiano, dietro ogni italiano si nasconde un imbecille. E poi l'altra cosa carina, se lo ricordate, che diceva che l'italiano sale sempre sul cano del vincitore. Iniziamo la guerra da una parte e la finiamo da un'altra.